E' rinchiuso in una cella di isolamento Giuseppe Buono, il 41enne che ha confessato di aver ucciso Maria Grazia Martino e di aver massacrato brutalmente la sorella Adele. L'ex badante delle due anziane di Salerno sarebbe stato minacciato di morte in carcere e per questo motivo ha chiesto di essere rinchiuso in regime di isolamento. A Forni l'udienza di convalida del fermo, nel corso della quale l'indagato è rimasto in silenzio davanti al magistrato. Ad 8 Channel l'avvocato assunta a mutali passi riporta lo stato d'animo del suo assistito e il contesto nel quale sarebbe maturato il brutale assassino. Giuseppe è molto pentito e provato anche perché conosceva la famiglia. Lui si è trovato in un momento di disagio economico, non voleva assolutamente arrivare a questo, non voleva uccidere ma semplicemente voleva recuperare del denaro per affrontare quelli che erano i suoi momenti di difficoltà economica in questo momento. Ma assolutamente lui non voleva uccidere, questo l'ha detto chiaramente a me e al pubblico ministero. Quindi anche Giuseppe è molto provato, sì. Intanto le indagini proseguono. Il procuratore Giuseppe Borrelli ha lasciato intendere che altre novità potrebbero arrivare. Nel frattempo all'ospedale Ruggi di Salerno è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Grazia Martino. La salma sarà poi restituita ai familiari per i funerali.